Gentili telespettatori bentornati a Gorizia 7, vi presento subito il nostro ospite di oggi, tornato a trovarci il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. Buongiorno a lei, grazie, un grande saluto da tutti i telespettatori e anche un buon pranzo, dipende da cosa sta facendo uno in questo momento. Insomma, allora è quella giusta. Allora, sindaco, intanto le chiedo subito un commento così a caldo sui risultati delle ultime europee, ultime amministrative regione, insomma, un po' uno scossone politico. Sì, ma uno scossone anche salutario, penso che tutti gli scossoni servono alla fine. Sicuramente era una campagna elettorale per le europee, perciò il livello comunale e regionale non è servito, non è stato determinante anche perché abbiamo visto che i risultati ormai di tutti i partiti, salvo qualche piccola eccezione, sono stati medesimi su tutto il territorio nazionale. Vale questo anche per Forza Italia. Forza Italia doveva testarsi tra l'8 e il 10%, in realtà ha avuto un punto in meno rispetto al previsto, ma non è tanto previsto. Comunque Forza Italia ha perso 4 punti rispetto a 5 anni fa, evidentemente, visto che io sostengo che mai la colpa è degli elettori, io non dirò mai che gli elettori non hanno capito, evidentemente siamo stati noi, non siamo stati in grado di spiegarci sufficientemente con gli elettori, gli elettori hanno premiato Salvini che è riuscito, in modo bravo oggettivamente nella sua comunicazione, è riuscito a intercettare le aspettative, i bisogni del mio paese, bene ha fatto anche Fratelli d'Italia con la Meloni ad ottenere questo risultato che è un risultato sicuramente lusinghiero. Constatiamo perciò che il centrodestra, visto che noi abbiamo sempre ragionato in termini di centrodestra, ieri quando avevamo il 40%, oggi quando dal 7% il centrodestra perciò ne esce rafforzato e perciò una ragione in più di soddisfazione, cioè il paese ha detto una volta di più e più che una volta di più, ancora più di prima, che non vuole il centrosinistra e perciò sposa le proposte centrodestra. Ergo io mi attendo a questo punto, visto che il centrodestra non si riconosce, ma nemmeno la Lega Nord, la Lega, Salvini, si riconoscono in questa azione di governo, Salvini stesso afferma a pie sospinto di essere bloccato dalla parte della coalizione dei 5 Stelle, perciò io mi attendo a questo punto che coerentemente si vada al voto. Io penso che perciò in quel momento la coalizione centrodestra agevolmente supererà il 40%, agevolmente perciò otterrà una maggioranza adeguata per governare con il premio di maggioranza, perché oggi il paese ha bisogno, la grande priorità del paese è di essere governata. Questa è la priorità, allora Sindaco, torniamo a Gorizia, Gorizia che ha appena vissuto il weekend di Storia, proprio in concomitanza con le elezioni europee, come è andata? Bella, bella, bella. Grandissima Kermes, Festival della Storia, quindicesima edizione, dei grandi numeri, parliamo di circa 60-65 mila persone presenti, ma parliamo di 2 milioni di contatti sui media, perciò dallo streaming a coloro che hanno contattato comunque online, per 2 milioni di contatti chi conosce i media sono oggettivamente un numero impressionante. Circa 200 appuntamenti, di questi peraltro il 10%, una trentina, anzi quelli organizzati, promossi anche dal comune di Gorizia nella tenda giovani, perciò una grande soddisfazione. Il prossimo anno è già stato reso noto il tema, quest'anno il tema è il titolo intorno al quale è poi girata tutta la manifestazione, quest'anno è la famiglia e il prossimo anno sarà Follie, ovviamente Follie può essere declinato in molti modi, anche all'interno della politica. Della politica, perché no, è vero, sicuramente. Allora poi parleremo anche dei prossimi appuntamenti, vorrei spostare l'attenzione anche tornando un pochino alla politica, ai lavori del Consiglio Comunale, più recenti e anche ai lavori pubblici che state preparando. Sì. Cioè in parlo del piano del traffico. Sì, a proposito, collegandomi con il piano del traffico, prima ancora dei lavori pubblici, una notizia che ho dato oggi sui social, perciò siete il primo media che lo trasmette, è che la riapertura che noi avevamo previsto già per quest'anno della Galleria Bombi, e abbiamo deciso di inserirla nel luogo più adeguato, cioè quello del nuovo piano del traffico. Anche perché una parte importante delle ragioni che ci hanno indotto a proporre la riapertura della Galleria sono collegate proprio al traffico, allora perché non inserirla nel luogo principe? Il luogo principe appunto è il nuovo piano del traffico che correrà parallelo al piano regolatore e al piano di abbattimento delle barriere acustiche. Occhio però che, perciò fra un anno, un anno e mezzo, ne riparleremo. Le ragioni della nostra proposta sono note per abbattere questa, la riapertura della Galleria a senso unico verso Piazza della Vittoria avrebbe consentito a un abbattimento del traffico in città, un abbattimento di inquinamento da traffico in città, una rivitalizzazione di un'area, quella di Piazza Vittoria, via Carducci, tutta quella zona che ad oggi in 15 anni qualunque misura posta in essere non è riuscita a rivitalizzare e perciò queste sono tra le iniziative, ma ripeto, ne parleremo insieme a tutte le altre azioni che possono essere proprio per pianificare meglio il traffico e i posteggi e naturalmente le sosti in città. Come stanno andando invece i lavori proprio all'interno del Consiglio Comunale? Insomma c'è stato anche in questo caso un po' di parapiglia ultimamente, su che cosa eravate arenati? Non mi scandalizzo, ormai con questa, una piccola parte della minoranza della opposizione è un'opposizione con cui si riesce a ragionare, un'opposizione propositiva, ahimè però questa parte propositiva, ragionevole, della minoranza dell'opposizione si lascia condurre dalla parte più transista, più facinerosa. Cos'è accaduto? Che durante il Consiglio Comunale noi ci aspettavamo di discutere due mozioni sottoscritte ciascuna da circa 1600 cittadini, c'era perciò la proposta da parte di, c'era la possibilità di discuterne subito, facendo in modo però che non si affrontassero altri argomenti prima, per non portare i cittadini a tra del mattino. Queste persone, ma più che questi cittadini, io penso un gruppetto di cittadini caricato da una parte dell'opposizione ha interrotto i lavori del Consiglio, non ha consentito la prosecuzione, siamo stati costretti a sospendere i lavori proprio per non chiamare le forze dell'ordine. Durante la sospensione questa parte più facinerosa dell'opposizione andava in escanescenza, gridava, urlava, ha usato e noi violenza fisica, ha messo le mani addosso a consiglieri e assessori di maggioranza, oggettivamente non c'erano le condizioni. Uno spettacolo deplorevole, squallido, mi consente di dire squallido, non ci ha consentito perciò di riprendere i lavori. Poi naturalmente ci sono... ma racconto anche un fatto proprio perché mi raccontavano oggi con screenshot mi mandavano... è accaduto che una persona, un architetto, perciò una persona professionalmente autorevole, perciò non... ha avuto la grande idea di stampare degli adesivi 2000 adesivi, con città vergogna, e ha cominciato ad attaccarli in tutti i luoghi pubblici che trovava perciò pali, cast... tutto... e la città era colma di questi adesivi. Non sapevamo chi fosse, ho deciso di verificare, di individuare la persona attraverso la video sorveglianza, in quel momento allora, messo le strette, questa persona si è autodenunciata. Adesso l'opposizione, questa parte di opposizione esprime solidarietà, apprezzamento e vicinanza e condivisione a una persona che riempie la città di adesivi, cosa che comporta ovviamente a parte il reato, non sa, vabbè, comporta un costo per la città, naturalmente, toglierli, ma io mi chiedo, l'asticella di una certa posizione qual è? Se van bene questi adesivi magari un domani sulle macchine dei privati, domani che cos'è? Andrà bene anche bruciare un cassonetto? Domani ancora andrà bene con una spranga spaccare una vetrina? Ecco, francamente io credo che la democrazia impone questo. Noi ogni cinque anni siamo soggetti ad una valutazione dei cittadini. Non è possibile che chi perde sonoramente le elezioni use la violenza nelle parole piuttosto che nei mezzi. Sono cose che ci sconcertano, mi preoccupa il fatto che la maggior parte dell'opposizione sia succube però della parte più estremista, più transista, più faccina rossa. Vabbè, sopporteremo il video, sono spalle grandi, ci mancherà bene. Sindaco, passiamo ad argomenti più lieti perché c'è questo progetto che ormai sta andando in porto di Gorizia e Nova Gorizia, questa firma proprio ufficiale per la candidatura a Capitale Europea della Cultura. Bella, bellissima amministrazione. Sabato scorso, piazza della Transalpina, gremita con la stazione ferroviaria illuminata con colori che cambiavano in continuazione, con bellissime fantasie. Una grande orchestra di oltre 80 elementi costituita da tre orchestre, due italiane e una slovena, una di Nova Gorizia, una di Cormonsi e una di Gorizia, con tre vocalist, tre tenori bravissimi sloveni, una soprano eccezionale goriziana e in questa cornice bellissima, davvero suggestiva, con una potenza di musica, poi con un repertorio studiato e mirato, i due sindaci, sto scritto insieme all'amico collega Clemen del sindaco di Nova Gorizia, abbiamo sottoscritto davanti a tutti questo rapporto, cioè questa partnership è questa candidatura comune al capitale della cultura. Entro fine anno, perciò consegneremo i faldoni, perché sono spessi, è febbraio, orientativamente al prossimo anno, questa candidatura sarà affinata, in modo tale che poi al fine del prossimo anno sapremo se saremo noi, come speriamo, candidati, come saremo noi, capitale della cultura del 2025. Io credo, insisto sempre, che questa non è un'opportunità soltanto per Gorizia, ma è una grande opportunità per tutto il nord-est e per Friulenza Giulia. Anzi, un'altra cosa che vi sostengo, non è affatto una provocazione, la città che trarrà meno benefici in termini di ricchezza sarà proprio Gorizia, perché avendo poche possibilità ricettive, la maggior parte, la stragrande maggioranza di persone che vorranno dormire a Gorizia, dormiranno a Trieste, a Nova Gorizia, a Udine, altrove. Perciò hanno l'interesse comunque di promuovere tutto il territorio ed è quello che faremo dal punto di vista culturale, turistico. Ecco, per questo state puntando molto anche sul castello. Ci sono lavori in vista anche per la famosa salita? A che punto siamo? Insomma, sappiamo che è una storia annosa, no? Quella della salita al castello. Sì, più che salita al castello io la chiamerei Calvario. Calvario, ecco, possiamo dirlo tranquillamente. Perché è una storia infinita. È vero. Speravamo di poterci trovare già con la salita al castello pronta, infiocchettata, pronta per essere inaugurata a fine anno. In realtà slitterà di almeno sei mesi. Vanno rispettate le procedure e le leggi, ovviamente. Perciò la società è stata finalmente individuata, che poi scorrendo la gradatoria delle ditte che hanno partecipato alla gara, si suppone perciò che orientativamente a metà estate del prossimo anno potrà essere pronta. Ma questo è una parte. salita al castello. Importanti, stiamo realizzando una riqualificazione del parco del castello, lavori già segnati, credo ormai siano finiti da pochi giorni, non stiano per finire entro i prossimi giorni. Altri lavori di riqualificazione delle mure del castello, già segnati in parte, ulteriori per circa 100.000 euro a breve saranno nuovamente assegnati. A fine giugno faremo una conferenza stampa per presentare un arricchimento multimediale tecnico del castello con oltre 100 tablet in quattro lingue, italiano, sloveno, inglese e tedesco, per illustrare le persone che entreranno in castello. Sono 120 tablet e perciò con questi tablet vedranno la realtà ricostruita, virtuale, perciò come era il castello, le informazioni, ma ancora quest'anno, o mal che vada, primi mesi e prossimo anno faremo una gara per circa 300.000 euro di interventi ulteriori multimediali in castello. Davvero una gran cosa. A questo si aggiungerà però, realizzeremo sempre il prossimo anno, le risorse sono già state reperite, sia una riqualificazione del Bastione Fiorito, un luogo stupendo, suggestivo, estivo e suggestivo, da cui godere una splendida vista soprattutto appunto nel periodo estivo e l'ex teatro tenda sarà ricostruito, stiamo valutando adesso come fare la gara, cioè cosa chiede ai progettisti, ma siamo orientati su una struttura in acciaio e plexigas che consenta perciò ad almeno 150 persone o 200 persone, tutto l'anno, non soltanto nel periodo estivo, di realizzare di tutto, miti, convegni, congressi, feste di laurea. Quindi non soltanto un calendario estivo, insomma, un po' tutto l'anno. Sarà davvero un castello che pulserà davvero di vita propria. Eventi prossimi organizzati a Gorizia, adesso abbiamo appena visto, insomma, è storia che è uno degli appuntamenti principali del calendario annuale, però insomma ci sono altre, in avvicinamento all'estate, ci sono altre manifestazioni. Noi abbiamo circa più, anzi monitorati e censiti, nel vero senso della parola, abbiamo 1.520 ogni anno a Gorizia. In realtà ce ne sono di più, probabilmente sono 1.600, 1.700, 1.800, ma censire tutti è oggettivamente impegnativo. Perciò converrà che il periodo migliore sono proprio nei weekend di maggio e giugno. Non per nulla abbiamo davvero tanti, tanti. I principali appuntamenti sono da una gara internazionale di mountain bike, ma è in Gioicoglio, perciò destinato ai suoi colleghi e giornalisti che parlano, scrivono, scrivono e parlano, scrivono e parlano di agroalimentare, dei viti vinicolo, assaggio vini, non è una splendida cornice. Ma andiamo anche il nostro Marco Stabile, insomma, con l'autorità. Ah, perché privilegiato, privilegiato, è un buon gustaio. È un buon gustaio, insomma, si occupa anche di questo. Assaggio vini, una cornice stupenda, prestigiosa, che è quella di Villa Coronini, ma ci sarà anche jazz, jazz trasfrontaliero all'auditorium di Via Roma e anche a Nuova Gorizia con Enrico Rava. Avremo, non dimentichiamoci, che abbiamo due mostre bellissime allestite, una di Franz Josef, chiuderemo fra due settimane circa, con un record di più presente. Sta andando molto bene, sì, ne abbiamo parlato in qualche altra puntata. Molto bene, e contemporaneamente allestita anche a Villa Coronini, è una mostra che come la Fondazione Coronini è abituata a fare, espone ciò che possiede, perché è un patrimonio eccezionale. Io penso un bambino che dovesse salire nella soffitta di Villa Coronini, io dico un bambino, io, quando salgo in quei luoghi lì sono cose stupende, uno starebbe giorni o ore perlomeno a vedere tutte queste cose, perciò parliamo adesso di accessori, accessori nella moda, accessori dal ventaglio al guanto al bastone, tutte cose che sono appartenute anche alle teste coronate di mezza Europa, visto le relazioni tra la famiglia Coronini e la nobiltà europea. Ci sono comunque tanti eventi e questi sono soltanto una piccola parte, naturalmente tutto si trova su www.comune.gorizia.it perché ne ho detto alcune, altre vanno certamente scordate. Benissimo, allora vi rinviteremo nuovamente a tornare a parlarci di tutte queste iniziative goriziane, per il momento ringraziamo il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, per essere stato con noi, torni presto e saluto anche tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito e l'appuntamento con Gorizia 7 ritorna puntuale come sempre la prossima settimana, sempre alla stessa ora, quindi grazie. Un grande saluto e un abbraccio a tutti voi. Buona giornata.